Il 6 di ottobre arriva il nuovo vescovo a Treviso, lei cosa si aspetta? Tante cose e niente. Non mi sono mai aspettato niente da nessun vescovo, mi spiace. Una volta che avevo i putei piccoli andavo anche spesso, ultimamente ho altre robe da fare. Tanto lavoro da fare, quello che si prospetta per Monsignor Michele Tomasi, che il 6 ottobre entrerà in diocese come nuovo vescovo di Treviso. Le persone serie, meno ho visto l'articolo che c'è sul giornale. Ma lei cosa si aspetta? Cosa faccia? Eh che, ma non lo so. Indifferenza all'avvicendamento, pare essere il sentimento prevalente tra i trevigiani. Non si aspetta. Niente? Non si aspetta. No, perché non sa ne cosa dite in merito. Non lo so, non voglio dare giudizi perché non... Neanche aspettative. Indifferenza, insomma. Sì, sì. Suora, buongiorno. Nuovo vescovo di Treviso? No, vabbè. Aspetta che io conoscendo. Chi non si conosce si può dire niente, dai. E a cosa pensa? Passo come che fai lui. Cosa si aspetta, insomma, a questo vescovo? Spero che si vada bene, insomma. Cosa si aspetta? Io niente, perché non vado in chiesa. Poi c'è chi comunque un messaggio alla nuova guida della diocesi trevigiana lo lancia chiaro e per certi versi critico. Che faccia il suo dovere, che sia bravo. Cosa dovrebbe fare per le famiglie? Cercare di raggruppare un po' su tutte le parrocchie anche e portare un po' più i giovani in chiesa. Commenti per un campione che evidenzia una forte disaffezione verso la chiesa e non a caso dall'ultimo intervistato arriva un appello forte e non solo per il nuovo vescovo. E' un argomento serio. E' una pigiarria che si cominciasse veramente a mettersi le mani sul cuore anche lì.